C'è un quotidiano che ha una certa fama nel mondo, si chiama Wall Street Journal, che non è esattamente né la verità né l'eco del roditore di Geronimo Stilton, né altre cose. È un giornale con una grande storia alle spalle, ha pubblicato un paio di giorni fa un editoriale, non firmato da un collaboratore, ma firmato da una giornalista che sta nel board del giornale, che dice, sapete cosa c'è? Forse dobbiamo farci qualche domanda, non sarà che sono questi vaccini a produrre le varianti? Cosa che disse Luc Montagné qualche tempo fa, ha insultato da tutti. Questo l'ha scritto il Wall Street Journal, in un editoriale titolato così, in cui la frase conclusiva, guarda te le leggo perché sono incredibili, dice questo giornale, firma Alicia Finlay, che è un membro, ripeto, del board editoriale, dice Prove crescenti suggeriscono che le vaccinazioni ripetute possono rendere le persone più suscettibili a questa nuova variante XBB e potrebbero alimentare la rapida evoluzione del virus. E si conclude così questo articolo, l'attenzione monomaniacale dell'amministrazione Biden sui vaccini rispetto ai nuovi trattamenti, cioè le cure, ha lasciato gli americani più vulnerabili a rischio di nuove varianti. Eccolo qui, ecco l'articolo, vedi, grazie alla regia, bravissimi. Primo gennaio, bravissimi, in regia, subito, ecco qua, Alicia Finlay, ora uno guarda e dice, questo è il Wall Street Journal, c'è un giornale italiano che abbia pubblicato mezza cosa, anche solo paragonabile? No, questi si fanno la domanda, ma poi dentro l'articolo è piuttosto duro. C'è qualcuno che abbia detto, osato su un giornale di questo livello, e ce ne sono in Italia, no? Che si vantano anche della loro storia, e dire, un giornale che metta in fila una serie di dubbi? No, nessuno l'ha fatto, nessuno. Però ci spaventano con queste notizie che non hanno proprio senso, non ha senso pubblicare una puttanata del genere. Poi uno dice, uno dice...